E benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono il vostro Mr.Bistecca Ed oggi su NewMage ci troviamo qua, come sempre e come ogni settimana per rapire i premi delle squad battles Più il pacchetto regalo che insomma ci regala FIFA ogni settimana Allora, ieri sera ragazzi ho rimasto in fuoriclasse 3 ma probabilmente sarò arrivato in oro 1 Non ho giocato tanto questa settimana E infatti oro 1, che palle, ho mai una gioia ragazzi E poi per questa settimana abbiamo la sfida di Samuel Umtiti a caso Comunque va bene, poi vedremo magari questa settimana di impegnarci per bene Proveremo a qualificarci anche per il full champion, insomma ne faremo di più di cose Ma andiamo a sapere questi pacchetti, allora partiamo Boh, tanto ragazzi è uguale Alla fine sono tutti i pacchetti, ero proprio un maxi, quindi cambia poco Oh, walkout, dai Speriamo bene, vediamo un po' Belgio, atti, chi cazzo è? Mertens! Porca troia ragazzi, Mertens qui da bene Porca miseria E la roba ragazzi Bella roba Mertens Non so quanto valga ma abbastanza Mi ricordo che la settimana fa costava 150.000 Macca Mertens Eeeh Eeeh Sto centone ragazzi, guarda là Bello, bello Mertens, mi piace Bello, mi piace E il resto li teniamo tutti Secondo pacchettino oro premium maxi Non ci capiterà mai più ragazzi, eh Uno come Mertens, sì infatti Grassa Fatto che sia raro Brasiliano Atti Non mi dico Oddio Raga mi stava prendendo bene Ho detto no vabbè Ho scelto anche Gabriel Jesus Invece E William Cosè Vabbè Meglio di niente Comunque Lì per lì Uno vede atti Brasiliano E pensa sempre A quell'altro Facciamo 3 su 3 Altro pacchettino Aero premium maxi Questo è quello regalo Della settimana Infatti è proprio un gran Troiaio Vediamo un po' E se Brasile Chi Ma chi è Seba No Seba 76 No Porca che schifo ragazzi Proprio tirchio sto gioco Madonna Proprio tirchio Moretti Ma che si fa A legna Bu Io veramente Alle Alle volte Sto gioco E mi stupisce Porca troia Se deve essere questo Il pacchetto giocatori Ororari Sa andare bene Se ne fosse ragazzi Uno che costasse 400 Esclusi questi Che valgono 650 Il resto Mamma mia Che schifo Meno male abbiamo trovato Mertens Ma dunque ragazzi Credo che per oggi Questo breve ma intenso video Possa anche finire qua Come sempre Spero che vi sia piaciuto Vedo sempre come certi Baggiati in su Ad iscrivervi al canale A condividere il video Con tutti i vostri A invece ragazzi Anche un bel commento Vedere che ci possiamo Vedere domani Con un nuovo video Bona